Carissime radiascoltatrici, carissimi radiascoltatori di Radio Speranza, pace e bene a voi tutti. Qui Don Massimiliano. Insieme riflettiamo sulle letture di domenica, quarta di avvento e Maria ci sarà presentata come la benedetta fra le donne. La pagina della visitazione, il cantico di Maria sono inseriti nel percorso dell'avvento mentre abbiamo già celebrato la solennità dell'Immacolata Concezione. Nella grande festa mariana è stato proclamato il Vangelo dell'Annunciazione che precede la pagina della visitazione di Maria a sua cugina Elisabetta e quindi il cantico del Magnificat. Il noto episodio raccontato dall'Evangelista Luca va contestualizzato nei primi due capitoli del Vangelo ma soprattutto unito al racconto dell'Annunciazione. Infatti il servizio di Maria nasce dall'obbedienza alla volontà di Dio e al suo progetto. Tutta la scena è dominata dagli neni, eccomi, eccomi, di Maria, come risposta all'annuncio dell'Angelo. La vocazione di Maria pienamente corrisposta ora diventa cammino, cammino di fede e di servizio. Il racconto della visitazione si compone di due unità che va dai versetti 39 e 45 che è la scena dalla visita di Maria ad Elisabetta e poi i versetti dal 46 e 55 che sono il cantico del Magnificat. Ebbene, il racconto evidenzia alcuni importanti simboli. Il salire, il salire di Maria verso la montagna di Giura, l'ingresso nella famiglia di Zaccaria ed Elisabetta, il saluto familiare, la gioia del bambino e la dimensione profetica delle parole di Elisabetta, piena di Spirito Santo. Elisabetta esclama a gran voce e l'annuncio profetico si trasforma in un processo di testimonianza e di evangelizzazione, di annuncio della bella notizia. Il dialogo tra le due donne diventa così una rivelazione, un'esperienza di fede. Maria è denominata con due aggettivi, benedetta e beata. Si tratta di due affermazioni che collocano la Vergine nel progetto di Dio. La benedizione divina nella storia avviene attraverso l'eccomi di Maria. Allo stesso tempo i credenti possono vedere nella Vergine l'esempio della beatitudine e della fede. Alla benedizione di Maria si collega alla benedizione del bambino che nascerà il figlio di Dio. La scena presenta l'incontro tra due madri, simboli delle due alleanze, dei due testamenti. Elisabetta rappresenta l'anzianità della prima alleanza e Maria la novità della nuova alleanza. L'incontro avviene in un contesto profetico, tipico del terzo Vangelo, quello di Luca. Il tempo dell'attesa si compie ed Elisabetta profetizza tale evento in Maria. La speranza di Israele viene realizzata. Dio ha fatto meraviglie nella Vergine Maria e sarà lei la madre del Salvatore, la benedetta fra tutte le donne. Elisabetta compie il più grande atto di fede nella linea autentica delle donne forti dell'Antico Testamento. Ciò che sembrava impossibile agli occhi degli uomini è divenuto possibile per Dio. La beatitudine della fede è applicata a Maria, beata colei che ha creduto nel compimento. Dio porta a compimento la promessa messianica. Dio è fedele. La Vergine concepirà e partorirà un figlio, l'Emmanuele, il Dio con noi. La funzione mariana nel progetto della salvezza è centrale. Non si sottolinea un privilegio, ma si evidenzia la grandezza della fede di Maria. Le due madri portano nel grembo i due figli, il Battista e Gesù. Il primo è il profeta dell'Altissimo e il secondo è il figlio dell'Altissimo. La venuta di Maria da Elisabetta ricorda l'ingresso dell'arca dell'alleanza a Gerusalemme e la fede di Davide che apre il corteo del popolo in festa. La nostra pagina ci prepara a Natale ormai alle porte. Vivere l'incontro con Elisabetta significa portare la novità del Vangelo a coloro che sono in attesa di Dio. La sottolineatura della fede è centrale in questo brano che abbiamo ascoltato. Maria è la donna che ha creduto. La dinamica della fede trasforma il cuore dell'uomo e lo apre al dono di Dio. Prima credi, poi vedi. Credere in Dio significa fare esperienza delle sue meraviglie, ma prima credi, poi vedi le sue meraviglie. Per questo motivo l'affermazione della fede produce la lode del Magnificat, autentico cantico di fede. Infatti nella seconda unità viene riportato l'inno del Magnificat, una cronistoria della salvezza che si sviluppa attraverso un mosaico di citazioni e di allusioni bibliche. Dio è celebrato come il Salvatore che ha compiuto prodigie a favore del suo popolo mostrandosi signore della storia. Nei versetti 46-50 vi è il linguaggio della lode, l'azione di grazia di Maria per le opere compiute da Dio. Nei versetti successivi, fino al 55, viene sviluppata l'universalità della fede, della salvezza attraverso le descrizioni antitetiche degli interventi di Dio che rovescia la sorta dei piccoli e dei poveri, rivelando la sua misericordia di fronte a tutte le generazioni. Il prezioso testo si caratterizza per la ricchezza simbolica dei verbi e per la logica rivoluzionaria dei temi che vanno letti anzitutto sotto una prospettiva spirituale e teologica, con evidenti conseguenze storiche e sociali. L'indo di Maria diventa un programma di vita, una delle pagine più alte, più profonde della Bibbia. Bisogna far diventare questa pagina la magna carta della vita del cristiano. Alcuni spunti per la meditazione. Maria è l'immagine della donna nuova, che si mette nella logica dell'amore di Dio. La scena della visitazione, letta nel tempo dell'avvento, ci aiuta ad entrare nel mistero cristiano del tempo. Dio verrà a visitarci per la nostra salvezza e Maria è l'immagine della prima redenta dal Signore, colei che accoglie e dona il figlio all'umanità dopo averlo accolto lei stessa. La Vergine sceglie la via maestra del servizio. Con sollecitudine Maria si reca presso Elisabetta per portare il suo aiuto. L'incontro diventa un canto di rivelazione di fede. Le due donne, immagine dell'Antico e del Nuovo Testamento, sono in attesa di un compimento. Ci insegnano a saper aspettare nella speranza del Dio che viene. Elisabetta profetizza del compimento del tempo. Nelle sue parole di saluto si cela tutto il mistero dell'attesa compiuta. La maternità di Elisabetta è il segno che rivela come la sterilità può diventare feconda secondo le promesse di Dio. Questo accade nella logica della fede. Elisabetta riconosce in Maria la presenza di Dio incarnato nel suo grembo. Elisabetta celebra la beatitudine della fede. E la scena è tutta centrata sulla femminilità e sulla maternità. Si sente oggi l'esigenza di riscoprire il ruolo della femminilità e della maternità. Ma quali messaggi possono venire da questa pagina per il nostro oggi? Si tratta di un testo di speranza che nasce dal cuore di due madri che hanno detto sì a Dio. Ecco, il tempo volge verso il suo compimento e Dio rimane fedele alle sue promesse. Egli aspetta il nostro sì, il nostro eccomi, il nostro inneni, che ha una dimensione profondamente vocazionale. Scegliere Dio significa farsi sintesi nel nostro cuore. Vivere l'incontro con il mistero dell'amore che si rivela nella semplicità e nell'umiltà del servizio. Diventare servide fratelli vivendo all'unità. Pensiamo pensiamo a una Maria che danza. Danza nel momento in cui canta. E la danza nel mondo ebraico era un'esperienza fortissima che rivelava la gioia. La gioia di quello che si stava esprimendo. La gioia di quello che si stava provando. Poche ore. Poche ore celebreremo l'inaudito di Dio. No, non siamo qui a far fin da che poi Gesù nasce. No, no. Dio è già nato, è morto ed è risorto, è vivo e vive glorioso. A noi in questo tempo che ci è dato, in questa vita più o meno soddisfacente, il compito di lasciare nascere Dio nei nostri cuori. Ancora. Di lasciarlo nascere non come era un anno fa, non come stavo tre anni fa, ora, oggi. L'idea falsa che coltiviamo è quella di doverci preparare con devozione e buone maniere alla festa della venuta di Dio. E così aggiungiamo dolore a dolore. Chi non è pronto perché distratto, chi non c'è perché travolto e soprattutto i tanti, troppi che vivono in Natale come una lama che uccide, non possono in alcun modo prepararsi. Penso a chi è solo e passerà Natale da solo. Penso a quanti è terribile vedere piangere disperati. Penso quanto sia terribile vedere piangere un adulto disperato e che magari vi chiede pure scusa per le sue lacrime. Ma scusa di che? Penso a tutti i matrimoni in bilico, alle scenate e alle cose brutte che i mariti e le moglie si sono detti al fatto che la nostra libertà ce la possiamo giocare davvero tanto male. Ah, se avessimo il coraggio di vedere davvero cosa sta per accadere. Vedere che Dio si fa spazi in mezzo all'etame e sceglie di nascere nell'aria acre di una piccola stalla. Vedere che la gioia è una tristezza superata, che Dio si schiera dalla parte degli ultimi, davvero per sempre. Vedere che anche Dio quest'anno non farà il Natale come che vediamo raggiungerci, terribilmente imbarazzante dagli schemi della insopportabile strategia di marketing. E Maria è la piccola Maria. La piccola Maria che sente il grembo crescere. In quella poesia e magia che solo le donne somiglianti a Dio possono vivere. Le donne che somigliano a Dio. Dio è il creatore, Dio è madre. Il verbo cresce dentro di lei con la parola fatta carne. Crescono anche tententamenti. Maria sale da Elisabetta, forse lei saprà darle una risposta definitiva, forse lei saprà dirle che sì, è tutto vero. E accade. Elisabetta si asciuga le mani nel grembiule e riconosce la piccola Maria, ormai si è fatta donna, e capisce. La pagina di Luca è un capolavoro. L'incontro fra le due donne nel Vangelo è tutto un sussulto, un complimento. Giovanni Battista che riconosce il Messia dal grembo è scalcia. Elisabetta, anziana donna che vede imprevedimemente realizzata il suo gognato sogno di maternità, fa i complimenti alla piccola Maria. Maria, ancora scossa da quanto l'è successo, comincia a ballare, a fare i complimenti a Dio, che salva lei e noi. Nelle loro parole avvertiamo l'attenzione, lo stupore, l'inaudito che si realizza. È vero allora. Dio ha scelto di venire. Dio si rende presente. Dio, il Dio di Israele, è qui. Non sono solo stanche promesse ascoltate dalla bocca del vecchio rabbino di Nazareth che sospirava allo shabbat seguendo il dito con la pergamena consunta dal rotolo di Isaia. È vero. È tutto vero. Dio, alla fine, viene. E le due donne urlano, cantano, danzano, piangono nell'assolato cortile della casa della vecchia Elisabetta. Lo splendido pancione col bimbo che scalcia e la presenza del profeta che indica il Messia. E tutto accade. Accade come il più inatteso e improbabile dei sogni che si realizza. Come se la storia, la vita e l'universo danzassero nel vedere queste donne cantare l'assoluta follia di Dio. E questo scatena la gioia, contagia, stupisce. La buona notizia è che Dio è accessibile, è semplice, è diverso. Diverso dalle nostre paure, diverso dai fantasmi che ci perseguitano, diverso. E Maria e Elisabetta ora lo sanno, cantano, dicono, raccontano. Raccontano dell'opera di Dio, la leggono scolpita nella storia degli uomini, la rintracciano nelle pieghe della fedeltà di un popolo di salvati, Israele, cui noi e l'umanità deve moltissimo. La loro gioia dilaga perché ora vedono chiaro, luminoso, evidente, mozzafiato il pensiero di Dio, disegnarsi nella loro piccola storia, usarle, coinvolgerle. La gioia è la dimensione essenziale del Natale. La gioia di sentirsi ed essere veramente salvati da Dio. Siamo veramente nel cuore e nel desiderio di Dio. Un suggerimento, carissimi amici, regalatevi in questo Natale dieci minuti di orologio, proprio dieci, per fermarvi e aprire lo sguardo. Sì, dinanzi ai presepi, a quei presepi che abbiamo fatto dentro casa, che non siano solo e soltanto un addobbo natalizio, ma siano un luogo di preghiera. Ecco, lì dinanzi, fermiamoci, apriamo lo sguardo su ciò che Dio sta compiendo nella storia, nella nostra storia. Anima, amici, arrivano le buone notizie. E allora, se Natascia ora mi dà la possibilità, vorrei fare un augurio a tutti quanti voi, carissimi radioascoltatori, carissime radioascoltatrici. Un auguri di cuore per un Santo Natale. Sento gioia, sento affetto nel fare gli auguri per questo Santo Natale di Gesù a ciascuno di voi. Ogni volta che leggiamo il Vangelo della nascita di Gesù, tra di noi la commozione è notevole. Il Natale ci fa tutti un po' più bambini, che riscoprono la gioia dell'amore che esprimiamo con gli auguri. Mentre i grandi eventi del mondo si celebrano con sfarzo ed esteriorità, che a volte hanno dell'assurdo, il Natale di Gesù avviene nella più totale semplicità. Maria e Giuseppe non trovano chi offra loro un alloggio e sono costretti a rifugiarsi in una grotta adibita stalla. Gesù, il figlio di Dio, nasce nella povertà per amore e circondato dall'amore sincero di pochi che lo accolgono. E allora entriamo in sintonia con quell'amore, entriamo nella gioia del vero Natale, leggendo e meditando il racconto di Luca in quel giorno, un decreto di Cesare Augusto, eccetera, eccetera. Il Natale non sia solo una festa esterna, vi prego. Non ci può essere posto unicamente per lo spendere, ma ci sia posto per la gioia, per la voglia di pace, per l'amicizia, e prendere coscienza che Gesù è davvero venuto storicamente tra noi e continua a vivere per trasformarci in Suoi figli, gente santa, portatrice della pace vera. Spiace vedere che in troppe case sia scomparso l'allestimento del presepio, per fare posto solo all'albero con i frutti del consumismo. L'augurio che torni Gesù nelle vostre famiglie, portando pace e gioia. Il presepio può essere davvero un segno forte di questa nostalgia di Dio e del suo ritorno in noi e in mezzo a noi. Ecco, assicuriamoci reciproca preghiera e vi auguro un santo e santificante Natale con Gesù e che ogni giorno della vostra vita conservi la gioia del Natale, la presenza viva e reale di Gesù, nostro Signore Maestro. Pace e bene a voi tutti.